I tennisti italiani hanno avuto risultati contrastanti nel primo turno degli Australian Open. Le partite sono state ritardate a causa del caldo e delle forti piogge. Lucrezia Stefanini e Lucia Bronzetti hanno finalmente giocato le loro partite nel tardo pomeriggio. La Stefanini è riuscita a vincere il suo match contro Tatiana Maria con il punteggio di 3-6-7-5-6-4, mentre la Bronzetti ha perso il match contro Laura Sigmund. La Bronzetti è partita bene e ha vinto il primo set 6-2, ma ha perso la concentrazione durante il secondo set e ha perso il match.